Filippo de Pisis. Nato nel 1896 a Ferrara, si forma sotto la guida del maestro Odoardo Domenichini nella sua città natale. L'incontro con Giorgio De Chirico e Alberto Savino segnerà profondamente la sua produzione pittorica. Suggestionato dal loro modo di concepire la pittura, ne condivide inizialmente lo stile metafisico. Dopo un breve soggiorno a Roma e poi a Parigi, la sua pittura evolve sensibilmente verso nuovi orizzonti. Trasferitosi definitivamente nella capitale francese nel 1925, stringe rapporti di amicizia con Édouard Manet e Camille Corot, Henri Matisse e Iphov. Nei 14 anni trascorsi in Francia, De Pisis sperimenta liberamente le possibilità del colore, dipingendo soprattutto nature morte, paesaggi urbani e nudi. Nel 1926 si tenne la prima mostra personale presso la Galerie au Sacré du Printemps. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nel 1940, i sintomi della malattia nervosa, della quale era affetto fin da ragazzo, sono sempre più evidenti, ma continua lo stesso a lavorare. Si trasferisce a Milano nel 1944 e a Venezia a studiare, ispirato dalla pittura di Francesco Guardi e di altri maestri veneziani del XVIII secolo. Più tardi, a Roma, studiò la pittura settecentesca, trovando ispirazioni nuove per le sue nature morte. Le sue opere ottengono il successo che meritano, soprattutto nelle biennali di Venezia del 1948 e del 1954, ma le precarie condizioni di salute negli ultimi due anni non gli permetteranno più di svolgere alcun lavoro. Ricoverato in una clinica di Brugherio, Monza, De Pisis muore il 2 aprile del 1956. Lotto 283 Filippo De Pisis, Moulin della Gallette, è il titolo di questo stupendo quadro del 1927. Le dimensioni sono 50x60, è un olio su cartone, l'opera è firmata e datata in basso a destra e quest'opera è archiviata presso l'archivio delle opere di Filippo De Pisis, l'archivio generale. La base d'asta di questo quadro, di questo Filippo De Pisis, è 25.000 euro.